Amici, le giornate sono belle, la primavera è iniziata, la voglia di uscire è tanta, ma non si può, non si può ancora. Non abbiamo ancora raggiunto nessun obiettivo, dobbiamo concludere la nostra opera, il nostro impegno deve proseguire, altrimenti lo sforzo fatto fino ad oggi risulterà vanificato e i numeri ricominceranno a peggiorare. Vi prego e vi insisto, non uscite di casa, se non nelle condizioni autorizzate e lecite. Vi dico una cosa in più, dovrete quando potete uscire di casa coprirvi il volto, la bocca e il naso con qualunque strumento utile ad evitare che voi possiate in qualche modo diffondere il virus, se per caso siete portatori. Mi raccomando, rispettate le regole e rimanete a casa.